Andiamo con l'ultima categoria, questa è al di fuori dell'assoluto che sta la tua perché è la categoria di women international. Abbiamo in questo caso tre partecipanti, la numero 125, Franca Marsella dal Brasile, la numero 229, Ritz Bernadio dalla Germania, la numero 290, Dorostei, Florentina, Daniela, Latina, no, da Latina, Ruenna, Jurafin a Poglia Preve. Un'altra, 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 un'altra. Un'altra, 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 un'altra Quattro, tutto lì. Quattro, tutto lì. Quattro, tutto lì. Quattro vicino a destra. Ancora, quattro vicino a destra. Quattro vicino a destra. Allora, facciamo una camionata fino alla seconda linea, rimaniamo in tempo e stop con diretta, quarto linea, quarto linea, quarto linea, prendiamo su la femanina ancora la quarta di 50 quarta di 50 quarta di 50 quattro di 50 e quattro di 50 ok 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 la gomme fra cracca trazie il nuovo base del energia e il che per la giornata i rilassi non ho non 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 No I 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